No, 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 fai la brava, fai la brava, sì, fai la brava, Cilla. Ehi, vai che! Guarda che posa che sta facendo. Lo porto a destra e poi, vedrai, vai, perché lui sta dipingendo. Perché adesso, secondo me, fa molto freddo lì in Campania, lo tengo, sai, all'interno del garage, messo in un posticino proprio sicuro, sicuro, quando è il trucciolato dentro. Fatto male, va bene. No, va bene, va bene. E dentro il garage? Sì, dentro il garage. Allora, perché adesso lui è già fuori due giorni e poi... Bella. Ecco, ti hai. Un saluto, no? Fata. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.